Ciao a tutti, oggi prepareremo le omelette ripiene. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono uova, parmigiano, prosciutto cotto, lattuga taglia da pezzetti, formaggio, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il formaggio e facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Mettiamo da parte il formaggio. Senza lavare il boccale mettiamo all'interno il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Trasferiamo il trito di parmigiano in una ciotola. Adesso mettiamo le uova all'interno del boccale, il sale e il pepe. e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. Versiamo il parmigiano che avevamo precedentemente grattugiato. e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Il composto per le omelette è pronto. Adesso le friggeremo cucinandole con un filo d'olio, mettendo due cucchiai di composto per ogni omelette. Dopo aver fritto le omelette le andremo a farcire. Prendiamo una, prendiamo un pezzo di prosciutto. posizioniamo, prendiamo della lattuga e completiamo il formaggio. Riudiamo l'omelette e la posizioneremo su una teglia rivestita da carta da forno. proseguiamo così con tutte le altre omelette. Abbiamo completato tutte le nostre omelette, vi consigliamo di accostarle una all'altra per evitare che si aprano durante la cottura in forno. Adesso le inforneremo a forno preriscaldato a 160 gradi per 10 minuti. Le omelette sono cotte, andiamo a impiattare. Omelette ripiene, grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.